Salve a tutti e benvenuti nel mio canale Allora, ottime notizie Praticamente c'è, nessuno lo sa, ma ci sta Praticamente un contributo per le revisioni auto Ok? Per chiedere un riborso Chi, qualsiasi persona, ha fatto la revisione della propria auto Motorino, eccetera, eccetera Può richiedere questo famosissimo contributo Andando sul sito ufficiale del Ministero dei Trasporti Vi lascio il link in descrizione E fare domanda Fai, accedi e registrati Dice che ovviamente viene soltanto con Speed Entriamo in caso mio con lo Speed Se no puoi entrare con il CNS, eccetera, eccetera Allora, ecco le condizioni di uso Vedi, oggetto servizio Bons Vehicles Questo vi lascio, ve lo lascio in descrizione E ve lo andate a leggere dopo con calma Questa praticamente è la piattaforma Dove siamo entrati dentro Se ci dichiaro di aver preso visione E accettare le condizioni di uso Vi lascio in descrizione E praticamente poi fate la richiesta Ok, qui praticamente dobbiamo Inserisci targa Noi qui mettiamo la targa E scegliere il mezzo che ci interessa Autovericolo Dovete spuntare se il proprietario è un'impresa E qui mettiamo praticamente la targa Ecco, come potete notare Praticamente ho inserito la targa del veicolo E cosa dice? Attenzione, data di visione non è compresa Dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Ok, perciò questa persona non ha il diritto Di prendere questo contributo Va bene? Con questo tutorial è tutto Spero di essere stato utile Iscriviti al mio canale E ci vediamo al prossimo utile video tutorial Ciao